Ciao ragazzi sono il piccolo ruby, oggi voglio farvi il wrap up del mese di marzo, febbraio è passato qui ho semplicemente un taglio dovuto alla lametta perché non riesco a farmi la barba decentemente io poi lo uso ancora a mano, sono molto tradizionalista solo che a volte insomma succede questo e quindi rimangono dei segni voi pensavate che io ho fatto delle cosacce un po' strane che io mi sia fatto graffiare dal gatto che si chiama Sersi no non ho un gatto quindi questo è marzo, marzo è pazzo, fortunatamente ha fatto il bravo e le letture sono state anche abbastanza soddisfacenti ho ascoltato, ho letto in ebook, ho letto anche in cartaceo quindi diciamo che ho usufruito di tutti e tre i dispositivi sì qui ho fatto un po' un casino ma che bello allora io inizierei subito con il botto con un romanzo che mi è piaciuto veramente tanto di un autore che vi consiglio ma andateci cauti nel senso che vi consiglio ma come primo approccio non vi consiglio questo romanzo ed è La macchia umana di Philip Roth allora qui ci troviamo in un contesto di scandalous e praticamente siamo sulla scia di quello che è capitato a Bill Clinton ora senza entrare nel merito della situazione vi riassumerò tutto in così allora praticamente Bill Clinton aveva questa tizia che si chiamava Monica Lewinsky che era una stagista un giorno lei entra nella stanza ovale cade praticamente una penna la penna con il quale lei stava prendendo appunti la penna è andata sotto la scrivania del presidente e vi lascio immaginare che cosa è successo diciamo che ha confuso le due penne ecco tanto per intenderci e fu una cosa veramente scandalosa io mi ricordo ai tempi si facevano delle satire si parlava era veramente uno scandalo che insomma ha travolto il nostro caro Bill Clinton che a me era anche molto simpatico tra l'altro poi la satira era improntata molto sulla figlia Cessa col bagaglino bellissimo comunque Philip Roth prende questa cosa insomma e fa una critica appunto nei confronti di questa società abbastanza bigotta e il protagonista è Coleman Silk che è praticamente un professore che non fa uno ma ben due scandali quindi prendi uno e paghi due praticamente no prendi due e paghi uno allora il primo scandalo è praticamente il fatto che lui ha usato questo termine che ha una doppia valenza vuol dire sia fantasma che negro lui ha usato appunto il termine perché lui questi due studenti non li aveva mai visti quindi ha usato questo termine per indicare loro come dei fantasmi non sapeva che effettivamente loro erano nere due ragazzi neri e quindi da lì è scoppiato un po' il tutto diciamo che questo è stato un pretesto perché insomma il caro Coleman dava un po' fastidio alla gente successivamente alla venera metà di 70 anni il nostro caro Coleman intreccia una relazione amorosa con una donna di 34 anni ma diciamo che non è tanto quello lo scandalo cioè il fatto che lui sia molto più grande di lei ma la cosa viene vista come una sorta di approfittamento cioè lui si sta approfittando di lei perché lei comunque è un'alfabeta ha una situazione insomma non abbastanza idilliaca e quindi apriti cielo tant'è che la prima parte del romano inizia con tutti sanno infatti il nostro caro Coleman poi riceverà una lettera dove praticamente dice che tutti sanno quello che è successo e quant'altro quindi diciamo che Philip Roth parte dal contesto di Monica Lewinsky praticamente che verrà poi ripreso nel la verità sul caso Eric Ebert ma lasciamo perdere con questa di fatto che fa una pesante critica insomma nei confronti di questa società che è veramente molto bigotta fondamentalmente che si scandalizza per una penna confusa sotto la scrivania ecco e interessante poi tutto lo svolgimento della storia dei personaggi e soprattutto il finale che mi ha letteralmente sconvolto allora diciamo che la prosa di Philip Roth non è molto scorrevole nel senso che ci sono delle parti che sono abbastanza ostiche quindi se volete approcciarvi all'autore io vi consiglierei o Indignazione o Nemesi tra l'altro Nemesi siamo anche in insomma in tema con la situazione attuale non partite da la macchia umana perché sebbene la storia sia interessante sebbene poi insomma tutti i protagonisti sono veramente ben caratterizzati e fatti bene ci sono alcune parti che sono molto ostiche quindi potreste non digerirlo io ve lo dico perché è giusto che voi sappiate quindi romanzo bellissimo che si è meritato 5 stelle assolutamente tra l'altro questo mese vorrei leggere Lamento di Portnoy o Portnoy come cavolo si dice perché è la versione un po' zozza della coscienza di Zeno che io lesse ai tempi ma non apprezzai quindi Philip Roth assolutamente sì mi approccerà un giorno a pastolare americana ma non lo so vedremo quando non lo so poi arriviamo ad una delusione del caro Fitz Scott Fitz che è ovviamente Belli e Dannati io ho amato tantissimo La Tenere la Notte che per me rimane al momento perché poi mi devo confrontare con il grande Gatsby al momento il suo migliore questo onestamente è un po' sottotono come lo è anche il libro che ho in lettura adesso che ho accantonato lentamente cioè per il momento perché sto ritrovando le stesse dinamiche in maniera diversa allora in questo romanzo non ho trovato iconici i personaggi perché i personaggi di Tenere la Notte erano veramente molto iconici erano veramente molto significativi al di là poi della loro storia e del loro svolgimento però erano dei personaggi veramente molto ci ha fatti bene qui non ho trovato la stessa cosa nel senso che ho trovato molta insulsaggine molta insessantezza e molta apatia e tra l'altro i meccanismi tra i due onestamente non li ho capiti arrivati arrivato quasi al 60% ho dovuto abbandonare il libro perché non 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 sopportavo ecco non gli sopportavo e quindi ho deciso di interrompere magari lo rileggerò in altri tempi in altri momenti però non mi ha del tutto convinto ecco anche la scrittura del caro Philip Roth Philip Roth del caro Fitzgerald anche la scrittura del caro Fitzgerald comunque sebbene mi sia piaciuta l'ho trovata migliore in Tenera la Notte però nonostante tutto si è preso tre stelle e voi mi direte perché perché comunque la scrittura del caro Fitzgerald è veramente magnifica e forse un pregio di questo romanzo è il fatto che noi ci troviamo sempre in un contesto di riccanza quindi di gente che ha abbastanza i soldini però Fitzgerald non ce lo fa pesare come anche in Tenera la Notte dove c'erano delle persone insomma abbastanza danarose però Fitzgerald non puntava molto su quello ma puntava poi su altre cose insomma altre dinamiche e quant'altro quindi ho apprezzato questo ma tutto il resto me l'ha fatto un po' pesare sinceramente come anche quello che sto leggendo forse al di là dei suoi due famosi il resto è un po' così ecco adesso spero di finire quello lì e poi ne riparleremo successivamente arriviamo ad un romanzo un pozzozzo che io ho ascoltato su Audible Audible devo dire che è una piattaforma di audiolibri molto molto interessante soprattutto per quanto concerne l'aspetto fantasy ma non solo perché ha comunque nuove uscite però sull'aspetto fantasy rispetto a tanto tempo fa è veramente molto più ricco potete trovare Nevernight potete trovare la non a casa potete trovare i primi due della Grisha quindi Shadow and Bone e Sainz and Storm potete trovare veramente tantissime cose ho apprezzato questo e ho ascoltato questo romanzo che è Sette Giorni di un'autrice italiana che devo dire mi è piaciuto è un romance M.M. un po' erotico dove però diciamo che le zozzerie arrivano un po' in ritardo cioè non sono subito incontro e bombiamo no te le fa un po' sudare e devo dire che le ha anche descritte in maniera eccellente allora praticamente qua ci troviamo in un contesto di golf e praticamente insomma il Tiger Woods della situazione incontra a sto altro tipo che non mi ricordo il nome abbiate pietà e tra i due scatta l'amore soltanto che lui ha una fidanzata e quindi insomma mette tutto in discussione allora io onestamente queste dinamiche non le sopporto all'interno dei libri cioè non sopporto veramente tantissime cose soprattutto tantissimi stereotipi quando si parla di omosessualità e quant'altro devo dire che qua questa tematica è stata affrontata veramente molto bene cioè non mi ha dato parecchio fastidio e non è scaduta poi in stereotipie che a me fanno venire l'orticaria onestamente ho apprezzato la crescita che ha avuto la loro storia ho apprezzato il fatto che comunque si è arrivato poi ad un completamento quindi non è una questione solamente ormonale gli ormoni arrivano anche un po' dopo quindi è molto sentimentale su quel lato unica nota negativa è stata la madre la madre di lui che io onestamente no ma anche lì un'altra cosa che c'è sempre dentro e quant'altro che bisognerebbe anche un po' sfatare sinceramente e quindi unica nota negativa è una trilogia la continuerò comunque brava all'autrice si è preso si è preso 5 stelle perché comunque mi ha del tutto convinto bene questi erano gli ascolti e gli ebook passiamo ai cartacei passiamo con la casa degli spiriti ora io vi faccio vedere due edizioni per quale motivo perché la casa degli spiriti voi la potevate trovare in questa versione solo che il font faceva veramente schifo ora ve lo faccio vedere non so se rendo l'idea di quanto è piccolo si vede che la Feltrinelli dopo l'ennesima recensione del font che faceva schifo l'ha ripubblicato con un font decente e meno male e infatti se non so se si riesce a vedere la differenza comunque è molto più grande rispetto a questo e finalmente allora primo e unico libro che leggerò della Yende perché la Yende ha uno stile di scrittura troppo discrittivo non mette dentro alcun tipo di dialogo come se questi qua non comunicassero o comunicassero via etere via telepatia non si sa e ad una certa e ad una certa stufa onestamente quindi se lo stile della Yende è quello io dico no no il colesterolo né neanche la Yende quindi magari se avete letto altro fatemi sapere insomma se altri suoi romanzi hanno questo stile molto pomposo e pesante io l'ho letto perché comunque tratta di una saga familiare che quest'anno è insomma il tema troppo 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 cioè anche la minima stronzata sta lì a descrivertela pagina e pagina quando si poteva snellire tantissimo altra cosa che non ho apprezzato del romanzo è questo realismo magico che poteva anche non esserci cioè cosa l'ha messo a fare se poi all'interno del romanzo non ha un suo peso perché si poteva giostrare in due modi allora o far capire come la società dell'epoca nei confronti di persone che avevano i poteri paranormali aveva una sorta di razzismo o comunque non le sopportava e quant'altro quindi lei veniva discriminata oppure che lei usa questi poteri per aiutare le persone che poteva essere un aspetto interessante del personaggio di Clara il punto è che queste due cose non ci sono cioè questo realismo magico all'interno del romanzo è veramente poco cioè ci sono veramente poche le scene dove lei usa i suoi poteri tra l'altro per ritrovare una testa ma lasciamo perdere quella parte è veramente cringe ma non ha alcun senso cioè se noi togliamo queste parti la figura di Clara funziona lo stesso cioè non aggiungiamo e non togliamo niente a quella che è la figura di Clara onestamente quindi io non capisco perché metterla all'interno cioè è vero che comunque richiamo il folclore del sudamerica bla bla insomma legato a determinate cose legato alla magia e quant'altro ma il punto è che è fine a se stesso cioè non ha un peso all'interno della storia all'interno della storia poi di Clara altra cosa negativa è il personaggio di Esteban Trueba che io non ho sopportato assolutamente la Yende vuole in qualche modo farcelo sembrare simpatico tra l'altro ci sono dei momenti in cui la scrittura in prima persona viene narrata da lui e onestamente non l'ho sopportato la nota positiva è se tutto il personaggio di Clara ma tutte le insomma le protagoniste femminili quindi abbiamo Clara Blanca e la nipote che ho trovato veramente molto interessanti soprattutto Clara che all'inizio veniva presentata come questa donna eterea questa donna che insomma sembra scesa in cielo a miracol mostrare però poi fondamentalmente dimostra di avere del carattere cioè veniamo in un contesto dove comunque il padre padrone comandava la moglie tu stai zitta e quant'altro nel momento in cui avviene una dinamica all'interno del rapporto tra Clara ed Esteban lei dice no tesoro io ti saluto e buonanotte quindi ho apprezzato tantissimo il personaggio di Blanca è un personaggio indipendente che si discosta totalmente da quello che è la madre quindi non è eterea non è bella che sta lì di qua e di là che poi non capisco perché non gli ha trasmesso i poteri boh non lo so vabbè comunque sta di fatto che il personaggio di Blanca è un personaggio ovviamente molto indipendente è un personaggio che comunque cerca la sua indipendenza si deve scontrare con un padre conservatore bigotto e insomma poi ci saranno dei risvolti molto interessanti devo dire la verità io ho apprezzato molto di più il film del libro a parte che il film è un cast veramente da paura perché c'è Meryl Streep c'è Jeremy Irons vabbè c'è Banderas ma chi se ne frega che secondo me rendono tantissimo soprattutto Meryl Streep anche se dovesse fare la barbona che ravana nel cassonetto dell'umana lei riuscirebbe a farlo egregiamente ma diciamo che il film ha un taglio diverso e la la cosa positiva del film è che a differenza del libro non ci fa non tenta di edulcorarci o di farci sembrare simpatico la figura di Esteban cioè all'interno del film Esteban è uno stronzo dall'inizio alla fine il film è tipo due ore noi lo vediamo stronzo cioè non ha dei momenti dove lui no vabbè ma guarda che comunque è un po' simpatichello no è stronzo e stronzo lo è punto e io ho apprezzato tantissimo questa cosa quindi primo caso dove io vi consiglio di vedere il film che se non sbaglio dovrebbe essere ancora su Netflix e non leggete il libro perché comunque il film è veramente molto fedele diciamo che ha un taglio diverso insomma perché poi la storia continua con la nipote mentre qui vediamo solamente insomma una fetta del tutto però è molto fedele e rende tantissimo mi sono dimenticato di parlare anche di Ferula che è un personaggio veramente molto interessante che però è poco approfondito io avevo in libreria questo libro da tantissimo poi l'ho ascoltato in audiolibro perché onestamente sapevo che la Yende aveva questo questo stile veramente molto pesante però ripeto il primo è l'ultimo che leggerò perché anche no onestamente cioè se tutti i libri sono così suoi campo a cavallo che l'erba cresce arriviamo poi a un'altra autrice che è la Banana Yoshimoto questo è un libro abbastanza sottile quindi non mi soffermerò molto sulla trama ma anche perché insomma cioè non cosa dire di questo libro allora è il primo se non sbaglio di una trilogia e praticamente siamo sempre in un contesto molto bucolico dove c'è la nonna e la nipote che vivono insomma insomma ste montagne insomma stanno stanno bene diciamo che non vivono in una metropoli a un certo punto la nonna dice amore io ho trovato Piselo e quindi ti saluto ho trovato l'amore della mia vita e quindi tesoro mio arrangiati ecco insomma la storia è un po' questa e diciamo che c'è un po' una destabilizzazione della nostra protagonista che ama vivere in questo posto tra l'altro circondata dai cactus e incontrerà insomma un uomo lasciamo perdere i nomi per favore perché sono impronunciabili e diciamo che mi ha un tantinello deluso ecco la Yoshimoto io la ammiro tantissimo perché lei è molto eterea lei è molto onirica soprattutto quando tratta di tematiche come l'amicizia la morte e tantissime altre cose insomma quindi io l'ho apprezzata molto per esempio con l'abito di piume e con il lago l'ho apprezzata tantissimo qui manca un po' di questo sinceramente manca quella quella riflessione anche unirica eterea che anche in poche pagine insomma riesce magari andando avanti vi darò notizia il punto è che se leggete la Yoshimoto sapete benissimo che cosa andate incontro era da un po' che non la leggevo e tra l'altro cercherò di approcciarmi anche agli altri due autori che sono Mishima poi ho Norwegian Wood che è da secoli che ce l'ho lì e poi c'ho Kawabata da qualche parte comunque recuperare pian pianino tutto quello che ho in libreria benissimo poi arriviamo ad un altro romanzo col botto di un'altra autrice che io amo tantissimo che è la Irene Nemirovsky con La Nemica io non so se questa copia esiste ancora in giro perché l'ho comprata tipo una bancarella a riccione a 8 euro 8 euro in sconto cioè perché in quel periodo stavo leggendo La Nemirovsky allora questa è una sua primissima opera e si vede proprio che era giovane lo si percepisce molto sul finale e lo si percepisce molto per il fatto che comunque i giovani sono molto irrazionali insomma c'è questa irrazionalità che ti porta a non è che io che ho 34 anni sia molto razionale è per carità di Dio però rispetto alle sue opere e rispetto alla tematica trattata c'è una maturità che qui non c'è ancora insomma volevo dire quello la tematica di questo libro è molto cara alla nostra cara Irene Nemirovsky che è quella della madre nemica e qui è proprio un essere nemica cioè la madre è proprio nemica nei confronti della figlia e diciamo che in questo contesto la madre la figura della madre è molto esagerata rispetto a quella che può essere nel ballo o nel vino della solitudine nel senso che è una donna molto frivola è una donna che tradisce il marito è una donna veramente veramente negativa non che poi la figlia sia positiva è per carità di Dio perché all'interno di tutti i libri di Irene Nemirovsky non si può parlare di personaggi positivi perché sono comunque mossi da sentimenti negativi però diciamo che la madre è veramente molto esagerata e quindi la figlia odia la madre ci troviamo anche in un contesto familiare non particolarmente idilliaco c'è anche da dire questo il romanzo mi è trattato a Parigi il punto è che la cosa che mi ha lasciato veramente di sasso è proprio il finale cioè se il finale del vino della solitudine e quello del ballo era una sorta di vendetta nei confronti della madre per fargli capire che nonostante la giovane età loro riescono a essere molto più mature o comunque riescono a fare riesco a mettermi sul tuo stesso livello ok quindi primo e poi te la faccio anche pagare qui mi ha lasciato veramente di sasso cioè è proprio una sorta di punizione molto forte cioè mentre negli altri contesti la punizione era anche molto banale qui c'è una punizione perché poi alla fine la madre viene punita per essere una donnaccia è veramente molto forte quindi se lo trovate a qualche parte leggetelo ma leggete tutta la cara Irene Nemirovsky perché io l'amo particolarmente e non ho altro da dire onestamente arriviamo a colei che tutto muove che tutto può non è madre natura ma è Sara J.Mass come saprete è uscito Ako che ho fatto la recensione ve la lascio qui vi ho fatto anche la recensione della corte di Alia Rovina cosa posso dire di questo romanzo nulla perché non vi ho fatto una recensione ma uno sproloquio e andatevelo a leggere perché cioè andate a guardare lo sproloquio perché è veramente interessante ingenuamente io pensavo che con Ako fosse migliorate le cose invece peggioriamo tantissimo la cosa che mi fa le cose scusate mi fanno incazzare sono due uno è la traduzione che fa schifo e non capisco perché visto che Lamass comunque è una che fa vendere due questo sembra il libro di una persona esordiente cioè di una scrittrice emergente non sembra neanche il romanzo di una che comunque scrive scrive bene scrive male ma comunque scrive da un po' di tempo incoerente l'ho trovato molto a Lamass per non parlare poi delle scene zozze che qui sono veramente ogni capitolo forche non mi è piaciuto non note positive il personaggio di Nesta il fatto che è scritto in terza persona perché se lo scriveva in prima persona era una mazzata nelle ginocchia molto bene fatemi sapere tante cose belle queste sono state le mie letture come vedete io ho spaziato quindi non mi dedicherò solo al fantasy ma anche ad altro fatemi sapere tante cose belle vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao